Musica Ah così è l'infama Macchiaver Friday Buongiorno! Tra un po' è Natale Sì Valentina però che ansia Fai almeno finire novembre, dicembre Vedo l'ora che sia il 24 sera E neanche io, cioè io no, perché se nelle famiglie Normali l'albero si smonta Diciamo dopo la Befana Noi ad agosto E lo rimontiamo a settembre Sereno Natale E per tutti vogliamo un nuovo anno speciale I nostri auguri più cari A chi ascolta Radio Bari Yeah Ma che gingolino Sì ragazzi però che ansia Posso rifarlo io quest'anno Dove dico delle cose da grince Tipo... E queste sono... No per dire No Benzorrati Due come voi Due come voi In diretta da... Il consueto di... Come dico io? Fai sentire a tutti come dico io Il consueto appuntamento Il consueto appuntamento con la vostra vita di coppia E con la vostra vita da single Cioè non lo so Che dice di solito... Ah ok va bene è qui in diretta dagli studi di... Di Radio Bari Helen Giacchia Io me ne vado Fai tu Pronto Non ho capito se sei tu o stai... Helen non te ne fai a Natale Stai a menare dei puccini A casa Esther Ellen scusami Helen non ti sentiamo Però niente perdiamo sempre il segnale Helen ciao Ciao A proposito di Esther Allora finiamo di dire il fatto Sì Quindi in diretta dagli studi di Radio Bari Ma anche in diretta in contemporanea Da su Tele Bari Sulle pagine Facebook di Tele Bari e Wilba Noi oggi prima di fare qualsiasi altra cosa Dobbiamo ringraziare la nostra vicina di casa Esther Sì Perché stamattina a 9 e mezza Ha mandato un messaggio a Valentina Dicendo ho fatto una crostata alla volita Grazie Esther Allora non abbiamo avuto modo di dirtelo Ma è fantastica Tra l'altro è finita già Quindi grazie Esatto Salutiamo chi ci sta guardando Chi ci sta ascoltando Ma anche chi ci sta seguendo sulle dirette Facebook Ciao Virginia Che è mia madre Ciao Ginni Valentina Ragazzi se meno Ricordiamo anche che potete telefonarci Raggiungerci telefonicamente Al numero 080 501 4668 Mia mamma si chiama Virginia Bellissimo Bella lei E potete anche volendo scriverci sotto le dirette Facebook Come già in moltissimi Ovvero uno State facendo qui sotto Mia madre Ciao basta C'è scritto Marco sta guardando la trasmissione Perché Perché oggi è venerdì cari amici E oggi ovvero fra pochissimo sentiremo il singolo di lunedì Quindi il caro domenico E capiremo se la sua presenza Ha dato i suoi frutti Qua ha dato i suoi frutti Magari ha trovato l'anima gemella La sua dolce metà Ma pure una tre quarti Ma pure un'uscita E poi avremo nella seconda parte Le ospiti meravigliose Ciao ciao Luigi Le ospiti meravigliose Che fra l'altro commentano la diretta Marco non devi commentare la diretta Sanno qui accanto a noi Ci sentono urlare Ma tutta posta Nel frattempo Abbiamo parlato di tante cose I più ci hanno detto ieri Che parlavamo di coppie Nel mondo del Jet Set Quindi dello spettacolo del cinema Del Jet Set Di siete dimenticati delle coppie fondamentali Sì Cioè tipo tuo padre stamattina mi ha cazziato Ah è vero giusto giusto Sono venuti a prendere il caffè E ci hanno riprograto Ma come sta alle Oli E non le avete nominati E io a spiegargli Pino parlavamo di coppie Diciamo che stavano insieme Sì però poteva anche essere una coppia di fatto Di fatti Come dice mia madre Vedi Paolo Così possiamo ragionare Così possiamo ragionare Eh non è Paolo che la scelta La scelta Silvia C'è solo un problema in questa canzone Nel video di questa canzone Giorgio Pasotti Per il resto Grazie chiudete tutto Lasciate solo me No ragazzi scusate Ma Paolo purtroppo è il nostro Come dire Tecnico Autonomo Ma come come dire tecnico È tecnico No volevo trovare gli aggettivi come dire Non sulla sua Il nostro gentile tecnico È Paolo È Paolo È solo per quello Infatti sì Che ha schippato la canzone così Ma non direttamente Grazie Paolo Va bene ma passiamo al dunque Sì sì Non è che lo fa il critico È un po' così Ricordiamo che Paolo è single Forse Non è vero Non è single Non è single Perché Paolo Abbiamo Domenico Lo sentiamo Domenico Ma Paolo sta tutto I love you Ciao Domenico Ciao ragazzi Ciao Vedi Oh Vedi Oh Ti sei appena svegliato Domenico No 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 Tutto bene Sto nel mezzo del cammin di nostra vita Ah Quindi per una selva oscura Sì vabbè Eh la diritta via era smarrita La vuoi finire Sembrava che ti fossi mangiato califano Dalla vuosa Invece no 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 Era una caramella Che è stata di cola Domenico Domanda fondamentale Sì Noi ci auguriamo che la risposta sia buona Però ovviamente Sì La tua presenza Nella rubrica Uno come voi Di lunedì Ha dato i suoi frutti C'è stata qualche gentil donzella Sì ha dato i suoi frutti Mele Pere Banane Ah Senza caffè proprio Detta così suona malissimo Ma un'uscita c'è stata con qualcuno? Ma anche un contatto Sono uscito Sono uscito Ma non Non per la trasmissione Perché già dovevo uscire Di casa Vabbè Potevi anche mentire Domenico Cioè giusto per così Cioè l'unica donna Che ti ha contattato Per la trasmissione E tua madre Che ti ha cacciato di casa Questo è il concetto Bravo bravi Vabbè È andato dalla nonna È andato dalla nonna Che salutiamo tra l'altro Ma Domenico No a parte gli scherzi Non c'è stato nessun tipo di approggio? No no Solo Uno mi ha aggiunto Dal Burundi In contatto Sei un cretino Domenico A por rendere Però non sai mai Metti un viaggio Un domani Scusami eh Chi va Chi non può Chi non va Welcome to Zimbabwe Vabbè Domenico Noi ti abbracciamo Ci salutiamo Un bacione Ciao 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 Niente Il Burundi È andata così No scusate Però questa è bella Sul serio Tacciamo tutti Per cortesione Grazie Grande Ma grande cosa, hai detto il titolo. Abbiamo Take me to church, Ozia. 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 Maria. Ozia. La cantora ti chiamata Take me to church. Sentiamo un perfetto. Take me to church. Perché su questa canzone Paolo si sta sfogliando? Mamma, questo è un pezzo. Io ho visto, ho sentito più che altro delle cover fra l'altro di questa canzone di cui parlerò a brevissimo. Sì. Sentiamo un po' il pezzo. Hai bisogno di andare. Vabbè, basta ragazzi, io mi innamoro. Veramente, guarda. Sì, sì, a me vengono i brividi. Cioè, in questa epoca si può ancora parlare un po' di musica. Bisogna fare un po' di promozione ad alcuni artisti. Bisogna fare un po'. No, no, bisogna dirlo. Esiste una crew, un ensemble di musicisti. Puoi ripetere? Scusa, non ho... Un insieme, Valentino. Ah, un insieme. Un gruppo di musicisti. Un bel progetto che si chiama Post Modern Jukebox. Lo trovate su YouTube. C'è una serie di musicisti che a turno anche invitano una serie di cantanti vari ed eventuali. e fanno tutte cover spesso swingate, gezzate, molto differenti dagli originali. Io ho ascoltato una cover di questa canzone di Take Me To Church fatta dai Post Modern Jukebox ed è una roba che mi si sono sollevate le unghie delle emozioni. Ma pensa, William. Ma roba, ti giuro. Ma, ma, ma. Valentina, ma tu nel frattempo hai riflettuto su quello di cui parlavamo ieri. L'hai trovata la coppia in cui ti vorresti identificare, seriamente? Sì. Mamma e papà. Da, Valentina, la coppia... E sono bellissimi. Che devo fare? Oh, cadà, ma, per favore. Allora, possiamo... Questo buonismo film. Allora. Ma cosa fate gli applausi? Stai sbagliando. Ma che cos'è, la d'Urso? E tu che li conosci. Allora, il problema è questo. Parlando di modelli giusti e modelli sbagliati di cui parleremo anche più in là, rilassati e prendi soprattutto la terapia che ti è stata prescritta. Sei tu la mia terapia, amore mia. È giusto, amore, ma quella ha un costo. E devo dire che sono estremamente fortunata perché i miei genitori sono meravigliosi e purtroppo io sono vittima di questo modello familiare che con tutti i problemi che ci possono essere è saldo e solido. Noi li salutiamo dopo la parentesi telefono azzurro. Però è vero che per te e per me sono vip i tuoi, ma una coppia vip, una del jet set. Anche dei telefoni. Oh, noi guardiamo un chili di serie tv. Possibile che non ce n'è una. Io volevo essere, ma per essere fisicamente come lei, come Jay! Jay! Ah, sì. Jay! Adesso non ricordo il nome dell'attrice, però è Modern Family, una serie tv molto divertente. Molto divertente. Lui è anziano, ma è bene. Nel frattempo noi ovviamente chiediamo al mondo del commercio, vogliamo fare anche noi la copia vip di una sitcom per cui se volete fare da sponsor chiamate pure Telebari. Sì, ma vi lasciamo Liban in massima serenità, con la massima serenità. Ve la giriamo pure per i fatti vostri. Sì, ve la giriamo per i fatti vostri. Sì, no, nel senso così ve la tenete a casa. Sì, se avete un frigorifero da sponsorizzare qualcosa noi lo infiliamo nel programma, non ci sono problemi. Valentina, salutiamo Tiziana. Tiziana, salutiamo Tiziana che ci scrive, che è la single, perché finalmente abbiamo una single donna che avremo lunedì e vi ricordiamo che potete contattarci al numero 080-501-4668 per parlare un po' di quello che abbiamo parlato. Per parlare con i nostri operatori e selezionare 9. No, Valentina, no. Per parlare delle tante cose di cui abbiamo parlato questa settimana. Cime tempestose, orgoglio e pregiudizio, sembra... Il barbapapà. Ma no, di quello non l'abbiamo parlato. Ah, no, non l'abbiamo parlato. Abbiamo parlato di quando l'orgoglio e il pregiudizio vanno a pregiudicare il rapporto. I pregiudicati, sì. No, anche i pregiudicati. Guarda, è un macello perché... Ecco, i flirt che poi non sono innocenti, sì. No, abbiamo parlato però anche e soprattutto di quelli innocenti, cioè quando il flirt è innocente, perché menarsi? Cioè cercate invece piuttosto di collaborare. Sì, prima di arrivare a quelle che sono delle conclusioni, delle conseguenze irreparabili e inesora, tipo il tradimento. Sì, ma tipo la tua vendetta contro un tradimento quale sarebbe? Così anche per farmi due conti in casa? No, Guiglia, due conti non te li farei perché te lo dico. Non so se tutti i denti poi ti serviranno diciamo o no più in futuro. Non siamo contro la violenza, no? Sì, senza... Ecco, che cos'è questa? Il ris? Ah, il ris. Il ris, il ris. No, eh, ognuno è libero. No, guarda, io quando ho realizzato che non devo pretendere chiedere delle cose che per me sono scontate, ho svoltato gran parte della mia vita. Quindi ognuno è libero di fare quello che vuole e l'altro di assoluto. Vogliamo ricordarlo così, bello, simpatico e senza denti. Esatto. Guardatelo adesso, ve lo mostreremo qui e là, a seconda del suo comportamento. In radio non ci possono guardare. Ah, infatti saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando dagli ascensori bloccati, grazie. Ma perché dagli ascensori bloccati? È così, perché magari perdono tempo. Quanti ascensori si possono bloccare? Tanti, su tutta l'Italia e la Nuova Zelanda che ci stanno ascoltando, voi che non ci sia. Sarà un ascensore, U2, U2 ascensori. U2, 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 U2 Paolo, U2, U2. U2 piacciono molto ai nostri ospiti. Yeah. Eppure loro sono due. Almeno uno dei due. Un, due. Perché sono irrandesi. Sei un genio. E sei Eugenio? No, non sono Eugenio. A questo proposito, volevamo salutare il nostro agente Eugenio. Ciao Eugenio. Ti ricordiamo che noi esistiamo e lottiamo insieme a te. Ciao. Ciao. Vuoi dire qualcosa anche tu? No, io... Valentina, si sente in imbarazzo quando faccio questa uscita. Cassa la censura, sì, sì. Tanti Eugenio non ci guarda, quindi lo salutiamo con fuoco. Ciao Eugenio. Senti, Vale. Sì. Io sto pensando... Io sto lasciando, sì, liberi tutti di ascoltare un po' di musica perché, insomma, magari... Sì, però ti ricordi che c'è la questione diretta, come sempre. Sì, sì. Quello che ti volevo dire è che io sto pensando... No, sto pensando già al Natale. Oh, che bello! Cioè, nonostante io faccia un po' il Grinch ogni tanto, la verità... No, perché a me il Natale, insomma, negli ultimi anni mi è costato molto. E questo mi dispiace. Eh, il Natale, in realtà, è una ricorrenza molto bella. Sì, molto bella. E ho capito, stamattina, tramite il gesto che ho fatto... Che mi vuoi fare un regalo! Grazie! Sì, no, anche, certo, amore, se ho i soldi, più che volentieri... Ho anche capito... Amiamo la città tutti i giorni, la osserviamo, la raccontiamo, la promuoviamo e per lei tifiamo sempre. Ma non è... Amiamo la città in ogni strada o piazza, dal suo cuore antico a ogni goccia di mare. Ma cos'è? Amiamo Bari e la portiamo con orgoglio nel cuore. Ho sentito con Ferragosto, che succede? Buon Natale! E per tutti un anno migliore, da Radio Bari e Tele Bari. Sì, ma anche me... Ma quest'anno possiamo fare anche noi gli auguri? Sì! Vogliamo fare anche noi! No, perché io stamattina tramite il gesto di Esther, la nostra vicina, ho capito che... Noi ce ne accorgiamo solo a Natale, ce ne ricordiamo solo a Natale. Per cui anche la questione dei conflitti di coppia, come conflitti in generale. Spesso gli atti di gentilezza, gratuiti e anche non richiesti... Potrebbero completamente ribaltare il destino dell'umanità. Sì! Sono la soluzione! E ci vediamo dopo la pubblicità! Non devi gridare! Non non... ... Grazie a tutti 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 Ok, ok, ok Chi ora ha una copertura sopra Non volevo parlare di divano Non ci siamo incontrati proprio sul divano Vabbè, ma questo non vogliamo sapere di divano Niente, ci siamo incontrati Abbiamo fatto un minimo di convivenza Abbiamo fatto una figlia E poi abbiamo visto che le cose funzionavano E abbiamo deciso di sposarci Ecco, voi fra l'altro avete un'aggravante Perché lavorate pure insieme Quello non è un'aggravante, è un problema No, a me lo dici Su qua, guarda Non è il nostro momento Però ad ogni problema si trova la soluzione Esatto, uno in cucina e l'altro da un'aggravante E come comunicate via WhatsApp? No, no, tramite Facebook Perché se non fossimo su Facebook Io non potrei sapere gli eventi che si fanno E quindi non potrei preparare il menu Esatto Perché non entriamo nel merito di che cosa facciamo No, no, no Perché siamo invece molto Allegri 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 Oh, ma quello che voglio dire Perché voi oltre ad avere una pargola Non solo all'inizio avete adottato un cane Che è bellissima Ma adesso ne avete adottati due Abbiamo Eh Adesso lo diciamo Sì, adesso arriviamo Sì Avete due cani di cui uno si chiama Klaus Che fra l'altro è quasi l'onomastico E praticamente Sì E l'altra si chiama Joy Appena arrivata da due mesi Joy come il gatto Come, come, no Si chiama proprio Joy Perché così è il suo nome Come, è stata trovata No, è stata trovata A Joy del Cilento Che è un paesino Nella riserva naturale del Cilento Se dici Joy del Coll Ti giuro che me ne vado No, era cane Me ne vado Sì, la seguo Valentina La sto per dire Era cane Al massimo era Joy del Coll No Ma va bene Joy del Coll Eh Ragazzi Questa da quanti anni state insieme? Eh Ho perso il conto Sì No, ma un numero dobbiamo dare No, no Sono tanti Allora diciamo Diciamo che sicuramente Cinque da sposati Cinque da sposati Dieci da sposare Altri dieci da sposare Dieci di convivenza Prima del mattino Quindici Quindi diciamo quindici totali Dai Sono circa quindici anni da spostati Sulla ruota di pari Ce li giochiamo questi numeri Giochiamo da cinque a quindici Quelli che desiderano Sentite, a parte gli scherzi Dello stare separati Da un muro Mentre lavorate Però com'è lavorare insieme? Perché chiaramente Noi abbiamo un tipo di esperienza Mi piacerebbe conoscere un po' la vostra No? Eh Com'è lavorare insieme? Bisogna Bisogna saper separare Gli ambienti No no Il lavoro Dalla vita privata Esatto Se nella vita privata Ci amiamo follemente Sul lavoro Non ci odiamo Però dobbiamo Imparare a tollerarmi Confrontarci Confrontarci E se io ho qualcosa da dire a lui Che non mi va a genere Ve lo dico via Whatsapp Io lo dico tramite Facebook Però questa cosa va detta Perché non si può passare su Per in virtù del fatto che si sta insieme Bisogna dire insieme Eh no certo Bisogna dire insieme Sì Senza venarsi Sul lavoro si è colleghi di lavoro Esatto Non sia marito e mone A questo proposito Noi questa settimana abbiamo parlato di orgoglio e pregiudizio No? Quando l'orgoglio dell'individuo O il pregiudizio dell'individuo Quindi anche nei litigi Per cui ormai si sa Come l'altro già si comporta in un litigio Spesso vanno a pregiudicare E poi negli anni il rapporto Quando si ripresenta il litigio Si sa già come l'altro reagirà A voi capita questa cosa Chi di voi è più orgoglioso Te lo dico io Te lo dico io Vai Vuoi sapere chi è orgoglio e pregiudizio? Sì Io pregiudizio Lei orgoglio Punto Ma c'è qualcuno che dissente C'è qualcuno che dissente E te rionoro Così come Raimondo e Sandra Lei è pregiudizio E io è scusi A voi siete Voi siete paragonabili Cioè voi vi paragonate a Sandra Raimondo Nel momento in cui Però tu fai Sandra Bravissimo Soprattutto quando andiamo a dormire Con le coperte Sotto le coperte Io sgancio Non dire così No ma no Come sotto le coperte sgancio? Ma William Tagliamo Ah no siamo in diretta Lasciali poveri Eh ho capito Sotto le coperte Eppure io sgancio Dai William Sgancio partire il ginocchio Silvia scusaci Purtroppo Silvia perdona Ecco E' arrivato Sempre pronti Grazie Paolo e Silvia Silvia Rimembri quel tempo Della tua vita mortale Eh vabbè Sì In su la vetta Della torre antica Passa la solità E visto? Pensa Temevo che mi dicessero Oh Valentina Grazie Silvia Ma posso dire una cosa? Vai vai Siccome non arriviamo mai a chiedere Parliamo sempre del passato Con le coppie Sì Però a me piacerebbe tantissimo Madonna che bella Grazie Il patrimonio mondiale Vai col patrimonio mondiale Dell'UNESCO Dovrebbe essere già Il patrimonio dell'UNESCO Esatto Il matrimonio dell'UNESCO Il matrimonio dell'UNESCO Il matrimonio dell'UNESCO Il piacerebbe sapere Qual è il vostro desiderio più grande Singolarmente Individualmente Però per la vostra coppia Per la vostra famiglia Per il futuro Grazie Silvia Bella brava Il vostro desiderio più grande Madonna così All'improvincia E' troppo profonda E lo so Perché noi qui siamo fatti così No solo lei Non è vero Il desiderio più grande Personale E di continuare a vivere Questi anni di vita Così come quelli in progressi Per altri Quelli che Il Dio dall'alto dei cieli Ci potrà concedere Ma è vero Abbiamo di un'unica Che meraviglia Io penso a qualcosa di più Non lo so Superalo 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 Desiderio più grande Desiderio più grande E vivere Questi anni Vivere per sempre Per sempre Oddio L'importante è vivere sereni e tranquilli E' detto niente Cioè chiamalo Guarda che questo è uno dei desideri più belli Serenità Tranquillità Un po' di soldi Non fanno male Bello Me lo dici Perché aiutano la serenità Portano gioia i soldi Quelli vanno lavorati Quelli vanno zappati E' vero Vanno lavorati E l'abbiscano Vai vai Sì che è domandina banale Io la riporto La vostra canzone del cuore Giusto? Ce l'avete? Beh Io personalmente No Noi non abbiamo Una canzone di coppia Che ci riconosca No Sicuramente Ti lascerò Che ne so Cinque giorni Ti prenderò Semmai Ti prenderò Ti Ti prenderò Noi abbiamo Come sottofondo Della nostra vita insieme Che ne so I concerti di Morandi I concerti di Tozzi I concerti di Aggion Tonacci Di Renato Di Renato Sai che pensavo qualcosa Di più internazionale Quindi sono proprio Cioè ci hanno seguito Almeno per vent'anni Allora vi hanno seguito 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 E doveva arrivare Allora Dobbiamo parlare Su questo Una cosa la posso dire Di Umberto Certo Grande bevitore di Jack Daniel Prima del concerto Una bottiglia No ma proprio Viste che stiamo a bari Lo possiamo dire Primo concerto Su Rignano Dove erano In Gargano Sul Gargano Umberto Tozzi Che prima di entrare Mi fa Marco Vuoi bere con me Prima di iniziare il concerto Dissi Umberto Perdonami Grazie Non bevo Ero sopra A 40 metri Sopra le torri A lavorare Ma vedi che è anche amico suo Umberto Umberto è anche amico mio Ma Marco è vero Perché si occupava Di allestimento Dei concerti Ma sai di quante cose Mi occupavo io Ve lo posso dire L'unico cantante Che cominciava il concerto Cominciava il concerto Come Umberto Tozzi Lo finiva come Umberto Tuzzi Praticamente E' una cosa vera Io fra l'altro Ma a voi vi piacere Ma voi avete capito Il senso di questa C'è sta versione Con Anastasia Con Anastasia Che poi ero stramazzotti Praticamente E' la cucina E' la cucina C'è la cucina Il campagna Ma te fai la domanda Perché è più Voi avete capito Il testo di questa canzone Perché io sono Ale e mi scervello Sul testo di questa canzone No io Io ho soltanto capito Il giro di Do Perché quello è poco Ma sicuro Quello sì Però mi domando Io forse sono ignorante E non capisco la poesia Nonostante ci abbia Che fare giornalmente Però forse C'è della poesia In una frase Apri la porta A un guerriero Di carta igienica Che io non ho trovato Senti Ma neanche io Cioè no Ma anche non piangere salame Dai capelli verde rame Ma qual è un'altra Ma qual è Ma comunque non si capisce E' poesia E' poesia Ma il bambino che ta Sogna cavalli e si gira Che poi il bambino che ta Cosa Ta cosa E' il cavallo che si gira Che si gira Sì ma un casino succede qua Forse l'ha scritta Dopo il Jack Brown È sempre il problema Della bottiglia Come Vasco Rossi Ha scritto Sally Sul water Voi lo sapete questo No Non lo vogliamo sapere Quanti a voi si gira Grazie Una bella giornata Felicità Ragazzi venite qua Perché è stato Facciamo una foto di rito Frati Poi ce la facciamo Ma dopo i titoli di coda E' stato molto bello Avervi oggi ospiti Perché era un po' Come stare in famiglia Sì la prima Non so quante ce ne saranno ancora Però sono felice Speriamo tante Purtroppo il tempo E' sempre poco Però noi A questi due No vabbè Anche noi A loro due A questi due amici Vogliamo proprio bene Anche noi Anche noi Ringraziamo Una cosa la devo dire Agli amici Per favore Mettete un mi piace Uno Mi piace A chi Mi piace a me Metto mi piace Sulla pagina Di Televare Di Wilva Di Radio Mettete una benedetta Asteriscono A così mi piace Ci sta Noi ci rivediamo l'uredì Con due come vuole 13.30 Grazie Marco Grazie l'onora Ciao Ciao Saperco in Lamis Ciao ragazzi Ciao Marco Questo programma E' stato offerto da Oropan